Ciao a tutti e benvenuti su GamerBrain quest'oggi vogliamo proporvi un nuovo video di Rainbow Six Siege nel quale non vi mostriamo bug o glitch ma dei consigli, succedimenti, strategie per poter eliminare i vostri nemici con estrema facilità quindi senza essere facilmente individuati nella prima parte del video ci troviamo nella mappa porto come potete vedere se dovete difendere l'ostaggio nella parte sottostante della mappa quindi nella rimessa bar che basta poi salire sopra lo scaffale come mostrato in questa parte invece ci troviamo nella mappa confine basta salire sul monitor del computer quindi attenzione a non romperlo per poi salire sullo scaffale in questo modo potete eliminare i nemici sempre nella stessa mappa appena entriamo nella struttura sulla sinistra c'è una stanza se collochiamo lo scudo quindi sempre con l'operatore di difesa possiamo eliminare i nemici che vengono dalla finestra o che cercano di rompere il muro davanti a noi per poter fare riduzione nella stanza successiva con estrema facilità oltre a eliminare chiaramente i nemici che vengono dall'entrata principale bisogna stare molto attenti a non cadere perché se vi sforgete troppo potete cadere in questa mappa ci troviamo se non erro a Oregon non vorrei dire una cavolata perché non ricordo bene il nome della mappa nella parte sottostante quindi nello scantinato nella lavanderia per meglio dire basta collocare lo scudo quindi sempre con un operatore di difesa e poi sdraiarsi sui vestiti in questo modo non desterete alcun sospetto e potete eliminare con estrema facilità i nemici provenienti da entrambe le parti come potete vedere anche in questo caso è possibile cadere con estrema facilità nell'ultima parte del video ci troviamo nella mappa brasiliana è possibile nascondersi sia su questo tavolo tramite una delle stanze ma in questo caso diciamo che potete rischiare di essere visti con estrema facilità quindi collocate uno scudo con l'operatore di difesa camminate sullo scudo rompete queste ampolle e nascondetevi tra di esse per eliminare i nemici grazie a tutti